14 maggio. L'ubbidire è meglio del sacrificio. Prima Samuele 15 22. Ubbidire è credere alle sue promesse. Il messaggio della croce contiene due elementi fondamentali, promesse e dichiarazioni alle quali noi dobbiamo credere, comandamenti ai quali dobbiamo obbedire. L'unico atteggiamento dello spirito umano valido di fronte ad una promessa è crederci e materialmente è impossibile limitarsi ad obbedirle perché essa non si richiama alla nostra volontà bensì alla nostra intelligenza. Ugualmente è impossibile credere ad un comandamento divino perché esso non si rivolge alla nostra intelligenza bensì in primo luogo alla nostra volontà. Se non siamo fermamente decisi ad obbedire rimarremo sempre fermi al punto di partenza. Sforziamoci di credere ciò a cui noi dobbiamo obbedire significa inevitabilmente precipitare senza speranza di sorta in un labirinto di propositi impossibili ad ogni modo inattuabili. Ubbidire agli ordini contenuti nella Bibbia significa prendere sul serio la parola di Dio, sottoporsi alla sua autorità e mettere in pratica i suoi comandamenti.